ciao e benvenuto al consueto aggiornamento ciclico con l'indicatore Volten per quanto riguarda il DAX cercheremo di capire insieme che cosa potrà accadere nei prossimi giorni fermo restando la follia dei mercati in questa ultima settimana soprattutto gli americani DAX lo vediamo c'è qualche piccolo arrangiamento da fare ossia da spostare leggermente qualche data che causa la contrazione poi la forte espansione e ho già dovuto modificare due volte quindi un avanti e indietro la fine della fiera sta tornando tutto come prima il tutto subito ovviamente dopo la sigla del canale mi raccomando non andare via eccomi qua sono Paolo Pisino sono un trader dal 2007 mi puoi trovare sul sito tradingportuti.com che ti invito a visitare potrai navigare tra i due le due diciamo tipologie di servizi che metto a disposizione il canale telegram gratuito dove ti invito a iscriverti per ricevere tutti i giorni le analisi multi day che faccio qua sul tubo e anche almeno due volte alla settimana il segnali le analisi ciclico intraday con livelli volumetrici su DAX Nasdaq, Dow Jones, S&P e Gold segnali intraday sugli indici che oltre a ricevere cioè a essere un canale dove si riceve uno segnale su Nasdaq e DAX riceverai anche tutti i giorni l'analisi quotidiana con ciclo e volume su DAX, Nasdaq, S&P, Dow Jones e Gold l'indicatore Voltime che è quello che mi vedi utilizzare nelle mie analisi che permette di fare un'analisi automatica nel passato e proiettare nel futuro il movimento dei prezzi disponibili per mt4, mt5 con anche incluso canale telegram e poi il corso di formazione di analisi ciclica e volumetrici se vuoi approfondire il mio modello di analisi ciclica e anche imparare a utilizzare ovviamente abbinargli i volumi sia da un punto di vista dell'intraday che da un punto di vista del multi day ma direi di passare alle analisi comunque sotto in descrizione troverai tutti i riferimenti allora dicevo DAX, DAX avevamo il massimo previsto per la data del 24 luglio andiamo ad aggiornare anche quello del 20 giorni in 20 giorni è previsto invece per il 21 di luglio quindi 21 di luglio stiamo parlando tra oggi 19 tra due giorni venerdì 21 mercato completamente laterale che quindi momento non degna non ci dà l'opportunità di entrare a mercato cerco di fare un po di pulizia a stare di altra realtà in realtà la possiamo anche lasciare perché una forte area di lateralità mercato entrato uscito più volte rimane comunque sicuramente una zona interessante e importante questo appunto dal punto di vista ciclico abbiamo una fase ribassista fino al 27 di giugno nel mercato è laterale questo evidente il trend di fondo al momento andando a togliere un 20 giorni e anche 40 giorni lo vediamo è ancora rialzista quindi vuol dire che su base statistica dovremmo aspettarci una cosa del genere quindi un movimento del genere o così oppure una lateralità e così quindi quello che io farei e attendere chiaramente intorno alle 28 più o meno di di luglio e possiamo andare a diciamo valutare due eventualmente possibilità di ingresso formando stando che se deve essere maniera di per comprato chiaramente viene difficile entrare al mercato si rischierebbe non è detto per realtà di trovarci in una situazione del genere con cercare di prendere dei long che in realtà non vanno quindi comunque un ritracciamento da parte del mercato auspicabile e anche un po di molla per quanto riguarda l'oscillatore che sicuramente non è la base dell'operatività ma se è più verso di per venduto è meglio per un long quindi rimarrei adesso in attesa ecco uno short non c'è modo di poterlo prendere forse forse con l'attesa della rottura di 15.889 potrebbe essere un buon risultato oppure andare ad aspettare che vada a rivedere i massimi e quindi entrare alle con uno short intorno 16.420 da queste parti per quanto riguarda il multi day ovviamente mi riferisco al broker che sto utilizzando per la mia analisi quindi abbiamo una fase ribassista fino al 28 che possiamo sfruttare sicuramente sì primo livello io attenderei la rottura di quest'area quindi l'area di 15.909 in caso di diciamo un movimento che subito va a favore invece in caso di continuazione rialzista avendo noi una componente ciclica che è pronta anche se di breve al ribasso andremo a ignorare i rialzi e potremo andare a cercare una componente ribassista intorno ai massimi assoluti quindi qui è un po' a scelta se già rischiarsi la 16.300 con eventualmente la consapevolezza di 130 punti in fronte oppure attendere proprio che il mercato vada a rivedere quest'area quindi l'area di 16.330 a questo punto qua avremo una tantina di punti di spazio di movimento per andare a cercare poi nuovamente una fase di ribasso il rialzo solo dopo la data del 28 di luglio o comunque vicini alla data del 28 di luglio quindi tendenza primaria ribassista le due opportunità a favore subito rottura dei minimi delle che poi saranno il lato superiore del canale di lateralità e invece quando il mercato continuerà una piccola sua fase di rialzo invece andare a cercare un ordine limite sempre ribassista più o meno sui livelli di massimo assoluto con questo è tutto ti do appuntamento alla prossima analisi di oggi che sarà sul Mib ciao ciao ciao